È un concetto fondamentale attraverso il quale passano tutti gli altri principi nella pubblica amministrazione perché la trasparenza è un ponte di dialogo tra il cittadino e la pubblica amministrazione, è un ponte che garantisce l'imparzialità, la legalità, la buona amministrazione. È un modo di interagire con il cittadino, di coinvolgerlo anche nelle scelte. È un meccanismo fondamentale ad esempio per l'anticorruzione ma soprattutto per la buona amministrazione. Noi diamo proprio degli obiettivi ai dirigenti in questa direzione con i vari piani, come il piano anticorruzione, i piani della performance dei dirigenti. Quindi molte iniziative assumiamo in questa direzione, poi ci sono le iniziative che prendiamo come giunta regionale. Basta pensare il portale della regione che oggi è accessibile a tutti e dove ci sono appunto le azioni della regione Marche, i vari canali social, in modo per interagire con gli stessi cittadini che tra l'altro ci sono un numero di accessi in continua evoluzione. Quindi molte iniziative ne abbiamo fatte in questa direzione perché riteniamo appunto che il concetto della trasparenza sia fondamentale nell'agire della pubblica amministrazione. È necessario semplificare, assolutamente, perché oggi la farraginosità delle norme determina nel funzionario pubblico onesto e capace il terrore della firma, a vantaggio invece del funzionario pubblico disonesto che vuole approfittare del potere della firma. Questo è un concetto che noi dobbiamo affrontare assolutamente nel nostro paese. Grazie.